Questo è il pedale del suspegno Facciamo un pezzettino molto famoso, antico, che si facevano in Saloon Scusate, scusate che cade il microfono, dove l'abbiamo rimastrato? Scusate che sono problemi tecnici che non si può, qui Scusate che sono... Stemulio Sé bene Aggiungi Un pezzo Segnore Grazie per la visione! Grazie per la visione!